Io ero in questa posizione qua che stavo facendo questo montaggio con queste riflessature e quindi la porta, per fortuna, che era la porta centrale di apertura, perché se era in questo lato qua i vetri ci venivano tutto addosso. Quindi quando l'effetto della paura lì per lì ti passa un po' perché non ti rendi anche conto quello che succede, dopo ti prende ancora più il panico perché ci potevamo fare male. Anche quella è la preoccupazione per la cliente che ci stavo lavorando. Attimi di paura, questa mattina nel comune di Monte San Savino un cinghiale ha sfondato la porta d'ingresso di un negozio di parrucchiera che vedete alle mie spalle. A un certo punto stavamo parlando tranquillamente, abbiamo sentito un boato e nel girarsi in pratica il vetro venire giù tutti i vetri rotti. E niente, come ci siamo girati abbiamo visto questo, diciamo, il muso di questo animale che era entrato fra il vetro rotto e la porta e subito è scappato. E noi, niente, increduli perché abbiamo avuto paura, non ci rendevamo conto di cosa fosse successo solo quando abbiamo visto scappare questo animale che poi non riusciva a uscire dal giardino e quindi ha scavalcato sotto una rete e è passato dall'altra parte dei vicini accanto e è scappato. Voi incontrate cinghiali quando la mattina arrivate al lavoro? Quando la mattina faccia conto per la strada che io vengo da Olivetto e vengo a Monte San Savino bisogna stare attenti perché giustamente ci sono i caprioli, i cinghiali, però una cosa così qui dentro mai visti. Questi danni probabilmente me li pago io perché ho fatto la denuncia, l'assicurazione però non è detto che mi ripaghino i cristalli, quindi me li ripagherò da sola e l'importante è che non sia successo niente né a me né ai miei clienti, ecco, tutto qua.